Ben trovati amici telespettatori, ospitiamo nei nostri studi l'ingegnere Antonio Bevilacqua. Perché? Perché dobbiamo parlare della 106 e non possiamo dimenticare che i dati e un progetto è stato presentato proprio dall'ingegnere Bevilacqua attraverso una richiesta dell'ente provincia di Grotone e non solo. Quando parliamo della 106 purtroppo dobbiamo fare i conti con i morti e i quattro giovani che sono morti nei giorni scorsi hanno sicuramente riacceso l'attenzione sulla strada perché in ogni caso la 106 è chiamata la strada della morte. Intanto io ringrazio l'ingegnere Bevilacqua per essere qui nei nostri studi e io vorrei da lui avere delle informazioni che siano anche, spero, un segno di speranza per il futuro di questa strada. Come siamo messi? Era previsto un grande piano di manutenzione straordinaria sulla strada alle 106. Purtroppo è stato fatto a macchia di leopardo perché in alcune zone si è stato messo in sicurezza e in altre zone non. Per questo è necessario che l'ANAS faccia un lavoro di manutenzione su tutta la strada e deve completare questo grande lavoro di manutenzione straordinaria migliorando notevolmente sia i raggi di curvatura ma soprattutto in alcuni tratti forse è necessario fare qualche opera strutturale più importante. Per quanto riguarda l'alternativa, l'alternativa per il tratto Crotone-Catanzaro-Passovecchio-Simeri in pratica collegare i 5 km già esistenti dagli anni 90 nella provincia di Crotone è una strada di categoria B a doppia a 4 corsie, due per ogni senso di marcia. Il prolungamento dal Passovecchio fino a Simeri, il progetto che è stato da me donato alla provincia di Crotone e all'ANAS è stato sottoposto a uno studio di fattibilità da parte delle aziende che collaborano con l'ANAS e da lì è partito il primo lotto, un primo lotto di circa 300 milioni vinto da un gruppo di aziende che fanno capo al consorzio Medil che ha proposto 220 milioni oltre gli oneri di sicurezza. e quindi partirà a breve, entro l'anno, questo lavoro dal Passovecchio fino al Bivio di Papanice. Qui dobbiamo dire che insomma bisogna aspettare sempre tanto tempo perché in ogni caso il progetto è stato presentato il 2020, noi siamo nel 2024, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare al 2030 per avere una strada dignitosa? Ma questo è il problema principale, per questo c'è il mio rammarico è che noi sia io ma anche quelli del comitato sulla statale 106 che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, che da più anni stiamo lavorando su questo affinché si realizza questa alternativa all'attuale tracciato della 106 di realizzarlo in tempi brevi, per questo noi avevamo proposto di realizzare dei lotti funzionali, 15 km, 20 km al massimo ma farli partire contemporaneamente, perché il problema è sostanziale se adesso hanno impiegato un anno per fare la gara e è stata giudicata prima di Capodanno questo lotto e impiegheranno tre anni per realizzare questo lotto, minimo tre anni, se non partono contemporaneamente gli altri lotti da Passovecchio fino a Simile Creek è assurdo impiegare 10-15 anni per realizzare appena 50 km di strada per questo contemporaneamente devono partire gli altri lotti è assurdo che si perde tutto questo tempo senza dare benefici al territorio significa che questo territorio non è preso in considerazione perché in ogni caso sappiamo perfettamente quanti sono i problemi sulle nostre strade e allora è giusto che ci sia un ammodernamento di questa strada della morte della 106 per chi esce e chi viene a Crotone Sì, il problema è che veramente io rimango allibito come per l'inerzia da parte degli enti pubblici e mi riferisco soprattutto alla regione alla provincia di Crotone e al comune di Crotone perché si sono trovati questo regalo di avere un tracciato basato sul lavoro mio di oltre 10 anni e senza un impegno importante per accelerare il processo di modernizzazione delle infrastrutture della provincia di Crotone e anche della provincia di Catanzaro cioè voglio dire, non è possibile assistere a questa lentezza burocratica nel guardare passivamente tutto quello che si fa a livello nazionale cioè bisognava incalzare di più l'ANAS affinché facesse in tempi rapidi i bandi di tutti i lotti e quindi quest'opera nell'arco di 3-5 anni doveva essere tutta completata Cambiano i governi e quindi cambiano anche i dirigenti nelle aziende Lei ha rapporti con l'ANAS, continua a chiedere che questa strada della morte si trasformi in una strada normale senza tutti questi incidenti e tutti questi morti? Ma noi come comitato siamo abbastanza allertati abbiamo cercato di... Il problema è fondamentale che qui da noi non bisogna disturbare il manovratore perché più che dire e chiedere all'ANAS e ai governanti locali di intervenire e meglio gestire queste problematiche non sappiamo cosa fare perché forse è il caso di immobilitarci a fare una protesta energica perché i tempi che vengono utilizzati sono assurdi poi c'è anche una scarsa attenzione da parte della cittadinanza perché se andiamo a vedere questa lotto, questa gara che è stata fatta Passo Vecchio-Papanice non c'è nessuna azienda della provincia di Crotone cioè la città, la classe imprenditoriale di Crotone è assente invece di riunirsi in associazione temporale d'impresa oppure in un consorzio o una forma di aggregazione per poter partecipare a questi bandi tenga presente che insomma arriveranno l'intero lotto dell'opera stiamo parlando verso sud, da Crotone a Catanzaro ci sono a Seminicric 3 miliardi di lavori in più verso nord altri 2 miliardi fino a Torretta di Crugla quindi la provincia di Crotone avrà un importante lavoro nei prossimi anni per circa 5 miliardi e che facciamo? le imprese locali che fanno? si guardano, giocano da singole imprese non devono aggregarsi per poter partecipare a questi bandi perché è chiaro che è oneroso partecipare a questi bandi per questo c'è bisogno di una classe imprenditoriale più attenta, più incisiva e più vogliosa di lavorare sul territorio crotonese e poi insomma sarebbero posti di lavoro per il nostro territorio non dimentichiamo che siamo sempre considerati gli ultimi in classifica siamo considerati un territorio povero se ci sono dei progetti che si possono portare avanti mettere in campo e io voglio anche sottolineare che lei in tutto questo non ha ricevuto alcun contributo o alcuna risorsa economica quello che ha fatto lo ha fatto con la voglia di aiutare questo territorio si, io ho fatto tutte le spese mie non ho avuto un rimborso spese anche se è promesso non è stato mantenuto da nessun ente in più hanno approvato con gli occhi bendati alcune soluzioni proposte dall'ANAS senza un'analisi attenta anche perché l'attore principale di questo progetto che ero io non è stato invitato nel momento in cui bisognava approvarlo e questo mi dispiace ma tutti i comuni che hanno aderito interessati a questo tracciato insieme alla provincia di Clotone hanno commesso un grave errore non nei miei confronti che io potevo ma non essendoci nessun tecnico che conoscesse diciamo il percorso mi sembra una cosa ridicola quello che hanno fatto non invitare me e neanche la presenza di un tecnico di un ingegnere che potesse diciamo controllare la bontà del tracciato proposto dall'ANAS perché hanno inserito numerose gallerie in alcuni siti dove si potevano benissimo trovare soluzioni alternative molto più economiche e anche più panoramiche noi lo diciamo sempre perché è un appuntamento ormai che ogni anno facciamo su questa storia della 106 io ho chiesto anche all'associazione Basta Vittime sulla 106 di ospitarli di poterli ospitare perché in ogni caso bisogna fare rete lo diciamo sempre se non si fa rete quando mai cambierà la storia di Crotone se non ci rendiamo conto del disagio che c'è e soprattutto per le famiglie che hanno perso dei parenti e che ci sono state queste tragedie sulla strada non si può pensare di essere indifferente è assolutamente bisogna intervenire e creare sinergia la provincia di Crotone di come è in Calabria bisogna comprendere che bisogna fare sinergia associazionismo mobilitarsi e pensare al progetto principale al bene comune questo è lasciare stare i personalismi io per questo ho con molta dedizione ho offerto alla provincia e all'ANAS tutto il mio lavoro ho fatto negli anni precedenti però sinceramente ho trovato una indifferenza da parte degli enti locali che pur ricevendo questo beneficio notevole e in più questi lavori che possono veramente rivoluzionare l'economia locale cioè quando mai nella provincia di Crotone si è pensato di realizzare un'opera di così tale importanza e soprattutto così di tanti miliardi bisogna svegliarsi non è possibile che non capire l'importanza di quanto lavoro si può creare nei prossimi anni infatti credo che questo sia fondamentale anche perché noi non stiamo puntando il dito contro nessuno ma stiamo solo mettendo in evidenza che c'è necessità di un risveglio collettivo da parte di tutti perché quando parliamo di Crotone quando parliamo della 106 quando parliamo del tratto di Crotone Catanzaro allungando un po' il tratto e dall'altra parte quando parliamo anche fino a Cariati c'è necessità di avere una strada adeguata perché in ogni caso nel 2024 non si può ancora stare legati a quelle strade che creano problemi di traffico e non solo ma problemi legati anche agli incidenti Sì ma per esempio c'è più attenzione da parte dei comuni del comune di Rossano Cugliano perché con la loro insistenza con la loro attività hanno fatto sì che entro l'anno partirà il tratto Sibari Rossano Corigliano e questo benvenga così si può anche a nord fare il tratto Crotone Sibari e completare il tratto Crotone Sibari per questo ci vuole una collaborazione una attenzione particolare da parte di tutti i soggetti che vivono in questo territorio cioè Crotone deve svegliarsi o ci vuole un'attività politica amministrativa più incisiva e comprendere che parlare di attività infrastrutturale è fondamentale sono necessarie le infrastrutture affinché si possa avere sviluppo in un territorio questo è giusto e in effetti dobbiamo dire che poi insomma la viabilità è fondamentale il collegamento tra i comuni tra le città tra le zone è fondamentale e quindi c'è necessità di un impegno istituzionale perché comunque bisogna tutelare la vita ma bisogna anche dare la possibilità a questo territorio di essere vicino ad altre zone quindi di poter in qualche modo avere degli scambi non solo attraverso l'economia le aziende eccetera ma anche attraverso la viabilità magari c'è tanta gente che vorrebbe venire a Crotone ma di fronte alla strada che c'è preferisce andare da altre parti e lo stesso dobbiamo dire noi ci vogliamo spostare ma come ci spostiamo se sappiamo che quella è una strada che poi alla fine regala soltanto azioni negative sì ma io dico non mi riferisco soltanto all'infrastruttura stradale ma ad esempio quella ferroviaria allora la regione Calabria con l'ex presidente Oliverio così come con la ferrovia dello Stato aveva intrapreso l'iniziativa di elettrificare tutto il tratto della Ionica della rete ferroviaria Ionica il tratto Catanzaro Sibari si è interrotto hanno messo i pali per l'elettrificazione su tutto il territorio poi sono diciamo si sono dimenticati che esiste la galleria sotto Cutro e sono bloccati i lavori ma io faccio una domanda ma scusate il tratto Crotone Sibari non ci sono gallerie perché non hanno completato l'elettrificazione il treno Frecciarossa che parte da Sibari che partiva da Sibari per andare a Roma ma non poteva partire da Crotone Sibari Roma e quindi anche trovare una soluzione per la mobilità della provincia di Crotone poi quando penso che molte persone si spostano con i pullman no? anche questo questo è fondamentale e c'è tanta gente che non può muoversi in macchina o non preferisce il pullman perché si ferma ha più ci ha più fermate di un treno cioè questi sono servizi alla cittadinanza alla collettività sì ma faccio un altro esempio dopo forse 30-40 anni è stato asfaltato il piazzale della stazione ferroviaria perché c'era il capodanno a Crotone l'anno che verrà di Amadeus ma ne ha impiegato 40 anni doveva arrivare un veglione di capodanno per asfaltare il piazzale della stazione cioè Crotone è stata resa molto più bella in questo mese di dicembre che è stata una meraviglia a tutti ha fatto piacere vedere la città più pulita più ordinata ma forse ci vorrebbero ogni mese dei capodanni affinché Crotone abbia una manutenzione non ordinaria straordinaria perché c'è bisogno di tanto tanto tanti lavori da fare a Crotone sì è vero è vero in tutto questo però tornando alla strada statale 106 dobbiamo dire che inizierà questo tratto con voluto anche dall'ANAS però non basta ma non basta devono partire degli altri appalti gli altri lotti devono partire perché se un tratto di 15 km hanno programmato che impiegheranno minimo 3 anni da 3 a 4 anni per realizzare questo tratto gli altri tratti ci vorranno altrettanti anni quindi non è possibile che ci vogliono 10 anni per fare 50 km di strada cioè qui è necessario intervenire e far fare i bandi più presto possibile per gli altri lotti e soprattutto la città di Crotone la provincia di Crotone e la regione devono creare sinergia e controllare l'operato dell'ANAS e cercare di stimolare affinché facciano prima possibile i bandi dei prossimi lotti la regione come è messa cioè nel senso che si sta interessando di questi progetti si è resa conto la regione dopo Mario Oliverio che in realtà c'è necessità di una strada adeguata e che quindi insomma ha anche la regione il suo compito di mettere in pratica e in attivo questi progetti ma io credo che ci sono degli errori a livello procedurale perché non si comprende come ad esempio non vengono incaricati dei project manager per le opere importanti che devono essere realizzate in Calabria cioè la regione soprattutto la regione ma anche gli enti intermedi come la provincia ma anche il comune cioè su degli interventi è necessario come dire creare una organizzazione con delle persone dedicate a controllare e stimolare affinché si faccia prima possibile e fare meglio le opere che si devono realizzare qui sinceramente sto verificando una impreparazione inadeguatezza nel modo di porsi verso queste grandi infrastrutture ci sono degli interventi dove possono portare anche ricchezza al territorio le faccio un altro esempio la ferrovia dello Stato nella provincia di Crotone sul territorio comunale deve realizzare e non soltanto sul territorio del comune di Crotone deve eliminare due passaggi a livello personalmente mi sono interessato per coinvolgere il sindaco l'assessore all'urbanistica l'assessore dei lavori pubblici del comune di Crotone affinché accettano o discutono il progetto presentato la bozza progettuale presentata dalla ferrovia dell'istare per fare questi lavori di o sottopasso o sovrapasso della linea ferroviaria nella zona di Gabella di Margherita in due anni in tre anni già la precedente amministrazione ma anche la nuova amministrazione zero nessuna comunicazione nessuna risposta i tecnici della ferrovia dello Stato di Napoli mi chiamano ogni tanto ogni anno mi dicono ma si sono svegliati a Crotone un'ultima domanda che le faccio è questa ma i sindaci del nostro territorio sono in grado di mettersi tutti insieme per ottenere che questa strada sia modernata in tempi brevi e non fra cento anni ma io non lo so io noi sia io sia il comitato volontario perché bisogna anche tener presente che noi stiamo parlando di un commentato di volontari non sono impiegati presso la provincia o il comune sono volontari che reddino il loro tempo gratuitamente hanno fatto un grandissimo lavoro quello che manca sono proprio gli enti pubblici che non rispondono non sono riattivi e che non collaborano perché queste domande che lei ha fatto devono dare risposte loro cose che invece a distanza di anni si vogliono il privilegio di andare in alcuni incontri senza nemmeno capirci nulla di quello che si discute e questo è grave è grave quindi ci incontriamo il prossimo anno per parlare di questo? ma speriamo di no speriamo che io sono ottimista spero che la città si svegli e che ci sia una una presa di coscienza che è necessario creare sinergie e soprattutto smetterla di avere invidia di qualcuno o o magari diciamo sentirsi inferiore a qualcuno qui bisogna collaborare per il bene comune solo così si possono cercare di risolvere i grossi problemi che ha il nostro territorio lei ha detto una cosa giusta perché chiaramente quando si parla di beni comuni dobbiamo parlare di tutto di tutto quello che è il sistema e di quanto questo territorio ha necessità di essere attenzionato da tutte le istituzioni e soprattutto che ci possa essere una ripresa sotto ogni aspetto perché ecco ha fatto riferimento all'anno che verrà il concerto a Crotone organizzato dal RAI con Amadeus è stato un successo i cittadini hanno risposto bene i cittadini hanno dato il loro contributo e soprattutto ecco la città è stata presentata con un'immagine diversa un'immagine che ci fa piacere perché quando possiamo dire che la città è bella è pulita e in ordine noi siamo contenti ma il vero problema è questo le strade mi riferisco alla 106 la strada della morte e vorremmo che questa strada fosse all'attenzione di tutti indistintamente perché se noi riusciamo ad essere una comunità una provincia una regione capace di risolvere questo problema abbiamo vinto la più grande gara e il più importante problema che riguarda tutti noi grazie per essere stato qui con noi grazie a tutti Grazie a tutti.